Un nuovo lockdown ci ammazzerebbe definitivamente. Sono le parole del sindaco Eros Lamaida di Castelnuovo Cilento ai suoi concittadini in occasione della comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno di nuovi sette concittadini positivi al Covid-19. Nel comune cilentano lo scorso 3 luglio si erano registrate 9 positività al virus. Stanno tutti bene, ha detto Eros Lamaida, è ciò che conta, ci tiene a sottolineare. La situazione è assolutamente sotto controllo da parte dell'ASL con la sua USCA, ma invito tutti alla massima prudenza continua, dobbiamo mantenere ancora alta la guardia. La lotta contro questo nemico maledetto, il Covid-19, è ancora in corso. Proprio ieri l'annuncio del sindaco Eros Lamaida che aveva anche raccomandato per la festa della nazionale italiana di non fare assembramenti. Ne va della nostra salute, ha detto, nel nostro benessere sociale, della democrazia del nostro paese. Una nuova chiusura, un nuovo lockdown ci ammazzerebbe definitivamente. Siamo prudenti, mi raccomando. Siamo prudenti, mi raccomando.